Non dobbiamo assolutamente fasciarci la testa, anche so perfettamente perché non è che abbiamo una classifica che faccia pensare cose diverse, però dobbiamo guardare, è normale che un allenatore deve guardare le poche cose positive che abbiamo fatto, l'ho detto prima. I primi 15 minuti sono stati 15 minuti in cui la squadra ha cercato di fare quello che avevamo provato, di giocare questa palla tra le linee, abbiamo avuto un'occasione, probabilmente l'episodio poteva cambiare anche l'aspetto mentale, perché è normale che questi ragazzi hanno bisogno anche di una situazione favorevole, però devono anche pensare e dobbiamo pensare e ragionare in maniera di andarcela a cercare. Poi ci siamo allungati, abbiamo giocato con la paura, davanti non riuscivamo più a portare pressione su nessun portatore di palla, loro strutturati fisicamente hanno dimostrato una buona condizione e quando ci hanno fatto girare palla da una parte all'altra arriviamo sempre un pochettino in ritardo e questo ha condizionato un pochettino tutte le giocate. Il lato negativo è che noi non possiamo giocare sui lanci, questo è normale perché ogni volta che prendevamo palla è come uno scaricare la responsabilità. Io alla fine del primo tempo ho detto ai ragazzi che se non riusciamo ad essere aggressivi davanti dobbiamo stare compatti, aspettare l'occasione giusta. Oggi un punto sembra un assurdo, ma probabilmente c'è caso che alla fine del campionato possa essere utile, questo è un momento di difficoltà, è normale. Io non guardo i proclami di inizio anno, io sono venuto in una squadra che ha 20 punti in classifica, oggi abbiamo fatto un punto, aggiungiamo questo punto, c'è da lavorare, c'è da stare tranquilli, è normale che manca, per giocare in qualsiasi maniera manca corsa, manca entusiasmo, manca voglia, manca grinta, manca voglia di andare, da un certo punto di vista io non ho niente da dire perché alla fine i ragazzi paradossalmente abbiamo avuto quei 5-6 minuti finali in cui anche 10 in cui sembrava che un pochettino avevamo preso un pochettino il sopravvento e questo dobbiamo lavorare su questo. Indubbiamente non è facile portarlo per tutta la partita, però capisco anche che è dal 4 mi sembra di dicembre che non si vince una partita, il sorriso manca sulla faccia di tutti i ragazzi, di consenso c'è da lavorare, da lavorare parecchio, ma la classifica dice questo, noi dobbiamo salvarci, se qualcuno pensa che questa è una squadra da playoff, sbaglia, questa è una squadra, eh vabbè ma ha sbagliato chi l'ha detto, ha sbagliato chi l'ha pensato perché oggi la realtà è questa, è un'assurdità, è un'assurdità del calendario perché il Pordenone ha giocato ieri e noi giochiamo oggi, noi abbiamo, il Teramo ha giocato lunedì sera e loro hanno giocato addirittura il sabato, anche oggi abbiamo concesso un giorno in più e queste sono le assurdità di questa Lega Pro perché bisognerebbe anche tenere conto che noi giochiamo oggi e giochiamo mercoledì, loro hanno giocato ieri, oggi noi abbiamo giocato di domenica e il Sud di Trova ha giocato di sabato, di conseguenza in due partite abbiamo concesso dei giorni in più, in questo momento della stagione con i problemi che abbiamo indubbiamente sarebbe stato meglio giocare, però non è che possiamo adesso fasciarci la testa perché abbiamo riposato, cercheremo in questi due giorni di riordinare le idee, di cambiare qualche cosa perché ho una rosa a disposizione specialmente in determinati ruoli, speriamo che si facciano trovare pronti e poi tireremo le somme.